Condannato ma per lesioni gravi, Francesco Paolo Anguzza è stato prosciolto dall'accusa di aver violentato la donna ucraina alle mura di Tramontana per un vizio di forma. Arrestati 32 tunisini, giro di vite della polizia di Trapani contro il fenomeno dell'immigrazione clandestina. I soliti incivili individuati a Trapani, 50 persone che abbandonavano la spazzatura per la strada. Ben ritrovati, come dicevamo nei titoli di apertura, il trapanese Francesco Paolo Anguzza è stato condannato a sei mesi di reclusione solo per il reato di lesioni grave. È stato invece prosciolto dall'accusa più pesante, e cioè violenza sessuale. Francesco Paolo Anguzza, 37 anni, è stato condannato a sei mesi di reclusione per il reato di lesioni gravi con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Prosciolto invece dall'accusa più pesante di violenza sessuale per un vizio di forma, è stata infatti ritenuta processualmente insufficiente la querela in atti della vittima raccolta dalla polizia. La sentenza è stata emessa nel tardo pomeriggio di oggi dal Tribunale di Trapani. Il sostituto procuratore della Repubblica aveva chiesto per l'imputato sei anni e sei mesi. Dopo la lettura della sentenza, Francesco Paolo Anguzza è stato rimesso in libertà. L'uomo senza fissa dimora era finito sotto processo per la violenza subita da Natalia, la donna ucraina di 44 anni, fuggita dal suo paese in guerra. I fatti contestati all'imputato si svolsero lo scorso mese di novembre alle mura di Tramontana, incastrato dalle telecamere collocate nella zona. Francesco Paolo Anguzza venne arrestato dagli agenti della squadra mobile a conclusione di un'indagine lampo. Lui però, difeso dall'avvocato Salvatore Gallufo, si è sempre dichiarato estraneo ai fatti che gli venivano contestati. Ha ammesso di aver avuto un rapporto sessuale con Natalia, sostenendo che lei era consensiente. Rapporto sessuale confermato dalla stessa vittima assistita dall'avvocato Fabio Sanmartano. Mi ha chiesto di fare una cosa, ha detto la donna ucraina, e io ho rifiutato. E lui mi ha preso con la forza. Oggi pomeriggio la sentenza di condanna, ma per lesioni gravi. Dopo il verdetto, Anguzza è stato scarcerato. La Corte d'Appello di Palermo, invece, ha assolto un ufficiale della Guardia Costiera di Trapani, che era accusato di corruzione. Non ha intascato mazzette per non eseguire controlli nei lì del trapanese. La Corte d'Appello di Palermo ha assolto ieri il primo luogotenente della Capitaneria di Porto di Trapani, Federico Sorrentino, accusato di corruzione. Per i giudici del capologo siciliano, il fatto non sussiste. Il gruppo del Tribunale di Trapani, Roberta Nodari, invece, aveva condannato l'ufficiale a tre anni di reclusione. Sorrentino era accusato di aver preso soldi dal titolare di uno stabilimento balneare di San Vitolo Capo per non eseguire controlli. Oltre alla condanna, l'imputato aveva subito una confisca della somma di 2.000 euro, quale provento del reato che gli era stato contestato. Ad ingiurarlo, una registrazione fatta in un bar dal sindaco della località balneare Matteo Rizzo. In quella registrazione, Andrea Diliberti accusava Federico Sorrentino di corruzione. Dopo tre anni, la vicenda si è conclusa con l'assoluzione dell'ufficiale della Guardia Costiera. Adesso Federico Sorrentino, assistito dall'avvocato Nino Sugamele, attende le motivazioni della sentenza, riviservandosi di sporgere denuncia per calunnia contro Diliberti e Rizzo. Pugno duro contro il fenomeno dell'immigrazione clandestina. La polizia di Trapani ha arrestato 32 tunisini. Pugno duro contro il fenomeno dell'immigrazione clandestina. La polizia di Trapani ha arrestato nell'arco di pochi giorni 32 extra comunitari. Fra costoro anche tre scafisti di nazionalità tunisina che, alla guida di due natanti, avevano condotto clandestinamente a largo delle coste di Pantelleria ben 71 connazionali. Gli agenti della squadra mobile, attraverso un complesso lavoro di escursione dei migranti ospitati sulle due imbarcazioni, nonché mediante l'esame dei telefoni cellulari, hanno raccolto gravi elementi indiziari a carico dei conduttori delle imbarcazioni che sono stati così sottoposti a fermo con l'accusa di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina e, tradotti in carcere, le misure sono state poi convalidate dal giudice per le indagini preliminari di Trapani. Al termine di laboriose procedure di identificazione, sono stati inoltre tratti in arresto per violazione dei divieti di reingresso altri 27 cittadini tunisini, anche loro sbarcati a Pantelleria. A loro carico sono state poi attivate nuove procedure di espulsione. Altri due migranti, sbarcati clandestinamente, sono stati tradotti in carcere in esecuzione di due distinti ordini di carcerazione e messi a seguito di condanne per reati in materia di stupefacenti. Frattanto questa mattina due treni sono rimasti bloccati in stazione. Uno doveva partire da Trapani, l'altro invece da Castelvetrano con destinazione al capoluogo. Le ferrovie hanno cancellato i collegamenti perché un gruppo di migranti, ai quali era già stato notificato il provvedimento di espulsione del territorio nazionale, aveva occupato la linea ferrata che attraversa Paceco e Salina Grande. Necessario l'intervento della polizia. Disaggi per i viaggiatori, costretti poi ad imbarcarsi sui pullman messi a disposizione dalle ferrovie. Ancora cronaca, organizzavano mini crociere alle Egati con partenza dal porto di Trapani, ma la Guardia di Finanza ha scoperto diverse irregolarità. Blitz dei militari della Guardia di Finanza al porto di Trapani. Nel mirino delle fiamme gialle le mini crociere verso le Egati. Il fenomeno è parecchio cresciuto negli ultimi anni ed attira tantissimi turisti. Non tutto però si svolge sempre secondo le regole. I finanzieri hanno atteso le imbarcazioni di rientro dal giro delle isole, raccogliendo le testimonianze e le denunce dei passeggeri, molti dei quali hanno affermato di aver pagato in nero e verificato la regolarità delle autorizzazioni in possesso degli armatori. Nello specifico, all'esito dei controlli è emerso che a bordo di sette natanti veniva somministrati vino e alcolici senza aver effettuato la prescritta denuncia all'urgenzia delle dogane, in violazione della normativa fiscale sugli accise. Per quattro di loro è stata anche accertata la somministrazione di alimenti e bevande in assenza delle comunicazioni all'autorità sanitaria marittima. Altre tre imbarcazioni sono risultate non in regola con la normativa sanitaria HACCP per la corretta formazione del personale in merito alla manipolazione di alimenti, mentre in un caso un'imbarcazione adibita ad uso diving sarebbe stata impiegata per finalità di nolleggio, in maniera difforme rispetto a quanto prescritto dalla licenza di navigazione. Infine, i militari delle Fiamme Gialle hanno riscontrato la presenza di tre lavoratori in nero. L'esito complessivo delle violazioni contestate ha superato i 30.000 euro, ma l'aspetto di maggior rilievo consiste nel fatto che tutti gli operatori controllati hanno avviato le pratiche per regolarizzare la loro posizione alla disciplina sanitaria e per l'assunzione dei lavoratori irregolari. I carabinieri di Trapani passano al setaccio il settore della ristorazione e i risultati non tardano ad arrivare. I carabinieri del nucleo spetturato del lavoro di Trapani nell'ambito di attività ispettive nel settore della ristorazione hanno denunciato un pregiudicato titolare di una ditta individuale di ristorazione, in quanto avrebbe omesso di sottoporre i lavoratori a visita medica, formare e informare i lavoratori, cerca i rischi connessi all'attività, nominare i responsabili di antincendio, primo soccorso e prevenzione e repressione, rendere idonei i locali adibiti a dormitorio per due lavoratori stranieri, risultati inoltre lavoratori in nero, combinate nei suoi confronti sanzioni per oltre 30.000 euro. Durante il medesimo contesto operativo dal controllo eseguito in un'azienda agricola marsalese è stato denunciato un extracomunitario che si sarebbe trattenuto sul territorio nazionale svolgendo attività lavorativa presso l'azienda monitorata dai militari dell'arma, nonostante gravasse nei suoi confronti un provvedimento di respingimento emesso dal questore di Agrigento. Nel 2021 Stanati a Trapani 50 i civili che abbandonavano rifiuti per la strada, sono stati tutti multati? Arrivano altre pesanti sanzioni per gli abbandoni dei rifiuti dopo l'allocazione di ulteriori telecamere su tutto il territorio. Ai 15 provvedimenti dei giorni scorsi se ne sono aggiunti altri 50 per un importo pari a 30.000 euro. Le attività messe in campo dal comune di Trapani sono state coordinate dall'ispettore Occhipinti della Polizia Locale e dal referente degli ispettori ambientali Danilo Catania. La tolleranza a zero che era stata ribadita nei giorni scorsi va avanti e non conosce soste, hanno dichiarato il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l'assessore Emanuele Barbara. Obiettivo ovviamente è quello di sanzionare quanti più incivili possibili che continuano a gettare rifiuti in giro per Trapani, creando non solo un danno economico a scapito dell'intera cittadinanza, ma criticità igienico-sanitarie che gli operatori comunali continuano a rimuovere. Ringraziamo i cittadini per le loro continue segnalazioni che ci consentono di accelerare ulteriormente nelle bonifiche ed attività di contrasto all'abbandono dei rifiuti. L'amministrazione inoltre ha fatto sapere che proprio in questi giorni sono in corso delle operazioni di rimozione dei rifiuti nella zona di Fontanelle Milo e nel quartiere Sant'Alberto. Passaggio della campana al Chivanis Club Elimo Paceco. Il servizio. Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia annuale del passaggio della campana del Chivanis Club Elimo Paceco. Il presidente uscente Angelo Giordano ha consegnato al presidente entrante Giuseppe Licari i simboli chivaniani, la campana, il collare, il banner e la charter a conferma della continuità della missione chivaniana che rivolge l'attenzione verso i bambini e gli adolescenti del mondo e verso tutte le situazioni di fragilità umane. Il presidente uscente congedandosi dall'incarico a ringraziato i soci e la famiglia ripercorrendo i momenti e le attività svolte nell'anno sociale. Appena trascorso il nuovo presidente Pino Licari ha sinteticamente riassunto il programma del service che prevede di realizzare in piena continuità con l'attività di solidarietà e di servizio svolta dai suoi predecessori ponendo particolare attenzione al significato dell'erbo donare e all'importanza delle attività a sostegno dei bisogni e delle necessità dei minori sul territorio e in tutto il mondo nonché sulla parola unione tra i soci di fondamentale importanza per creare armonia e spirito di altruismo e solidarietà. Il nuovo presidente ha poi presentato il direttivo che lo affiancherà per avviare e condurre le iniziative progettate. Alla cerimonia erano presenti il luogotenente governatore della divisione 7 Sicilia Giuseppe Alletto, il sindaco di Paceco Aldo Grammatico e la dirigente scolastica dell'Istituto Giovanni XXIII di Paceco Barbara Mineo che hanno portato un messaggio di solidarietà e sensibilità verso la missione chiuaniana. Ora lo sport, buon proseguo. Grazie a tutti.